Non è un bel momento per il grande e per il mitico Matteo Berrettini Infatti purtroppo a seguito di un infortunio il grande Matteo non può giocare gli ottavi di finale contro Sisypas negli Australian Open E questa è una notizia che getta nel pieno sconforto tutti i fan, tutti i seguaci, tutti i supporter, i tifosi del grande Matteo Berrettini Per colpa di questo infortunio non giocherà gli ottavi contro Sisypas negli Australian Open di tennis E un'altra notizia vengo a darvi e cioè che purtroppo Fabio Fognini è stato eliminato da Rafa Nadal Si ferma dunque in tale modo il percorso o meglio l'iter di proprio Fabio Fognini Grazie al fatto che Rafa Nadal vince su di lui o meglio contro di lui E il percorso di gioco del buon Fabio Fognini viene a interrompersi in maniera piuttosto esplicita, in maniera piuttosto palese Insomma non è un bel momento, ripeto, per quanto riguarda il tennis attuale, il tennis italiano In questi Australian Open abbiamo l'infortunio di Berrettini Matteo E l'eliminazione di Fabio Fognini da parte di Rafa Nadal Vi ringrazio per l'ascolto e il Biodermina qua Un saluto catareando un narratore italiano